Tudor Grand Tour, eleganza e prestazioni. Se cerchi un orologio da polso che unisca eleganza e prestazioni, il Tudor Grand Tour è la scelta perfetta per te. Il Tudor Grand Tour è un orologio da polso che nasce dalla passione per le corse automobilistiche e che offre una combinazione di eleganza e funzionalità. Il Tudor Grand Tour è un orologio da polso che fa parte della famiglia Tudor, una casa orologiera fondata nel 1926 da Hans Wilsdorf, lo stesso creatore di Rolex. Nel 2013, Tudor è diventato il timing partner ufficiale del W, I, C, fornendo i suoi orologi Grand Tour come strumenti di cronometraggio per le gare. Il campionato mondiale Endurance, W, I, C, della FIA, è una competizione automobilistica internazionale per vetture sport prototipo e Gran Turismo, che si svolge su diverse piste in tutto il mondo. Questa partnership ha rafforzato il legame tra il Tudor Grand Tour e il mondo delle corse, conferendo all'orologio un'immagine di prestigio e di eccellenza. Il Grand Tour è nato con un quadrante semplice, con la data ore 3 e le ore in numeri arabi sulla lunetta. In seguito, Tudor ha proposto altre versioni del Grand Tour, che mantenevano il design originale, ma aggiungevano la funzione di cronografo. Questa funzione si riconosce dalla lancetta supplementare di colore diverso, che misura i secondi cronografici al posto di quelli dell'orologio, che appaiono in un subquadrante aggiuntivo. Le versioni con cronografo hanno anche altri due subquadranti, che indicano i minuti e le ore cronografiche. La data, invece, è stata spostata a ore 4 e 30 o a ore 6, a seconda della versione. Il cronografo si attiva con due pulsanti a destra della cassa, quello superiore avvia, e ferma il cronometro, mentre quello inferiore lo azzera, riportando gli elementi cronografici alla posizione iniziale. Il Tudor Grand Tour può avere anche la funzione flyback. I dettagli del quadrante, le lancette luminose e gli indici ben visibili contribuiscono a garantire una leggibilità ottimale in ogni situazione. La cassa ergonomicamente progettata si adatta comodamente al polso, rendendo il Grand Tour un compagno ideale per qualsiasi occasione. Il quadrante può essere nero, bianco o grigio, con dettagli rossi, blu o verdi, a seconda della versione. Il cinturino può essere in pelle, in acciaio o in tessuto, con diversi motivi e colori, a seconda della versione. Il Tudor Grand Tour offre così una varietà di scelte che permette di personalizzare il proprio orologio in base al proprio stile e alla propria personalità. Il Tudor Grand Tour è un orologio da polso che non solo ha un aspetto accattivante, ma anche delle caratteristiche tecniche di alta qualità. Il Tudor Grand Tour è dotato di un movimento meccanico a carica automatica, che assicura una precisione impeccabile e una riserva di carica di circa 46 ore.